Oggi vi presentiamo il MAP Il museo all'aperto, birotti Si tratta di una serie di sculture di artisti molto famosi donate alla città di Cosenza dal meccanato e Carlo Bilotti Una galleria d'arte contemporanea ospitata nel centro moderno della città l'isola Pedonai Ecco i bronzi di Riace Ecco la pifancale di Pietro Gonzaga Andiamo a caccia dei paracarri di Pietro Gonzaga Andiamo a caccia di Cosenza! Andiamo a caccia di Cosenza! Andiamo a caccia di Cosenza!